Musica Ciao ragazze, bentornate al nuovo video! Allora, oggi finalmente direi decoriamo la mia stanza a tema Natale. Diciamo che io non finirò mai di decorare la mia stanza, quindi ora vedrete le decorazioni, ma giorno per giorno sicuramente ne aggiungerò altre, magari ve le farò vedere poi in corso d'opera. Comunque, cominciamo! Allora, sulla mia mezzoletta, come al solito voi sapete, io tengo la mia letterina, la R, e questa non cambia, perché comunque è tanto lucina. Poi, voglio aggiungerci una candela, ho cambiato, prima avevo la Christmas cookie, quella gialla, e adesso metterò la Snowflake cookie, che è quella a dolcetti natalizi, ve le faccio vedere. Ma non si vedrà, comunque è questa, e la duro. Ha un profumo pazzesco, e adesso l'accendiamo anche. Io ho troppo il mio... accendi con dele, si dice così. Non so se riuscirò, senza bruciarmi, vediamo. Yeee! E questa la mettiamo qui. Forse c'è troppa luce. Vediamo. No, è uguale. Continuiamo. Il quadretto che abbiamo fatto insieme all'ultima tutorial, è il mio quadretto natalizio. Poi ci mettiamo anche le palline. Mettiamo qui la glitter. Così i riflessi della luce che ci vanno su la illuminano. E poi ci mettiamo anche queste altre due. Una qui, che richiama questa. E una qui. Anche questo è l'alberello che abbiamo realizzato insieme. Che dita? Com'è? Vediamo l'insieme da lontano. Ma sì, ci piace. Yeee! Volendo possiamo metterci anche l'altro alberello, quello più grande. Adesso lo prendo. Però mi sa che mi copre. Vediamo un po'. Mi copre la candela. Com'è? Ma sì, dai, ci sta, mi piace. Ok. Ha giudicato. Il vostro Natale peggiore. Peggiore a livello di regali. Raccontatemi qui sotto il regalo peggiore che avete avuto a Natale. Il regalo peggiore, si sa, è sempre quello riciclato. Soprattutto quando magari ci trovate dentro ancora il vecchio bigliettino di chi lo aveva regalato. O magari impolverato, peggio. Comunque raccontatemi qui sotto tutti i regali peggiori che avete mai ricevuto in tutti i vostri Natali. E andiamo avanti. Adesso facciamo l'albero. E andiamo avanti. 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 Allora, ragazzi, manca il puntale. Vi faccio vedere il mio puntale. Eccolo qui. È un arcobaleno. E lo mettiamo. E andiamo avanti. Ehi, sono qui! Mi vedete? Allora ragazze, potevo mai non appendere qualcosa ai miei adorati pure lo sgold che non fosse natalizio, ovviamente natalizio nelle mie corde? Ebbene no, non potevo non appenderlo e quindi attacchiamo anche qui qualcosa. E voilà! Ve lo faccio vedere nell'insieme. O almeno ci provo. Eccola qui! Stellina, stellina, corecino, tutto fuffoso. Grazie! Grazie! Allora ragazze, queste sono le mie decorazioni. Ovviamente non sono tutte perché... voglio impotrarvi l'alberello... non sono tutte perché in corso d'opera mi sono venute altre idee di altre decorazioni, magari vi farò il tutorial. E che dire, spero che questo angolino, quell'angolino e il resto, ah il pendente, insomma in ogni angolino c'è un po' di Natale. Spero che vi sia piaciuto. E niente, questa candela è inebriante ed è la Snowfield Cookie. Ragazze, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel like. E soprattutto, che dire... lasciatemi un commento. Voglio sapere, ricordate, il regalo peggiore che avete ricevuto. E voglio sapere il colore del vostro Natale. Il mio, oramai. È più che scontato. E vi lascio ad una panoramica generale di tutte le decorazioni. Mila baci baci. Ciao! 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 Ciao!